Ah certo, quest'anno a Nappi succede un'avventura, perché ha questa casa bellissima, con un dirimpettaio un po' complicato. Il commissario cambia ogni anno casa e Uber li sta dietro. Casa di Vincenzo Nappi, casa di Uber Fabricetti. Sono diventati addirittura vicini di casa, cioè quasi fossero appunto Sandra e Raimondo. Come sarà Nappi? Uber Fabricetti. Regista. Uber Fabricetti. È un grande attore, è talmente bravo, è talmente un grande attore che è quasi una grande attrice. Allora, siccome abitano proprio di fronte, Fabricetti la mattina vuole andare a lavorare insieme a Vincenzo. O voi vi rendete conto di quello che significa andare la mattina a lavorare con uno come lui? A tra Thinking. O voi vi rendete past Garba che ha fatto un'eatureci, perché non ha av명이 vipidone a lavorare.